Per colpa del coronavirus, l'annata del carciofo tardivo è stato compromesso, stiamo tutti buttando per terra, tutto il carciofo, le mamme, le stiamo buttando per terra per far sì che la pianta vada avanti e stiamo buttando per terra, spendendo soldi per buttare il primo prodotto buttato per terra. L'annata 2020 si è fatturato zero, stiamo lavorando per niente, buttiamo tutti i carciofi per terra, c'è una mamma buttata per terra, cosa mai visto in 40 anni, mai è successa una disgrazia del genere. Cosa dobbiamo fare? Guardate cosa stiamo facendo, buttando tutti i carciofi per far sì che la pianta vada avanti. Mamme, mamme buttate per terra, tutte buttate per terra perché dobbiamo far fronte o vedere se andiamo avanti alla crisi che ci sta succedendo.